La Commissione europea promuove il reinsediamento dei rifugiati, cioè il loro trasferimento da un paese terzo di primo asilo ad uno Stato dell'Unione europea. I fondi FAMI garantiscono sostegno finanziario ai rifugiati reinsediati. Dal 2015 l'Italia ha un programma nazionale di reinsediamento che ha coinvolto soprattutto rifugiati provenienti da Libano, Turchia, Giordania, Sudan, Siria. Sono in gran parte siriani ed eritrei. Per l'esecuzione delle procedure amministrative è stato istituito un ufficio di supporto. L'Italia ha aderito ai programmi di reinsediamento promossi dalla comunità europea accogliendo 2.510 persone migranti. Grazie a tutti.